Kate, la duchessa di Cambridge ha indossato una gamma di colori vivaci durante il suo periodo come membro della famiglia reale britannica, ma c'è un colore che apparentemente non ha mai indossato, Kate è un'icona di stile per gli amanti e gli osservatori della famiglia reale britannica. Per molti, è l'epitome della grazia e dell'equilibrio regale. Colorata e sorprendente, la duchessa di Cambridge è nota per sfoggiare molti colori nelle sue uscite reali, ma c'è una tonalità particolare che sembra snobbare. Infatti, in tutti i suoi anni da reale, non l'ha mai vista indossare, Harper's Bazaar ha esaminato tutti gli archivi reali per scoprire che, nei suoi oltre dieci anni come duchessa, Catherine ha indossato di tutto, dal blu elettrico ai rosa magenta audaci. Ma non ha mai indossato l'arancione. La pubblicazione rileva che Kate ha indossato l'arancione rosso sangue in passato. Ma la tonalità è più vicina al rosso che all'arancione. Secondo quanto riferito, un numero pesca nel 2013 è stato il più vicino a cui Catherine è arrivata a sfoggiare il colore arancione. Come la regina è Meghan Markle, duchessa del Sussex, Kate è nota per indossare abiti smaglianti nei suoi fidanzamenti reali. Ma a differenza della regina, che è stata raffigurata in arancione, Kate ha evitato il colore. Il motivo esatto della sua scelta non è chiaro. Ma, parlando della moda della duchessa, l'esperta di moda reale Natasha Hanson, editore della British Style Society, ha detto a Express.co.uk, lo stile di Kate è cambiato radicalmente nel corso degli anni, tuttavia, è diventato più raffinato con il tipo di doveri che ora ha. Deve esibirsi come un reale. Kate sembra aver sottovalutato la fiducia nelle sue scelte di stile e sceglie pezzi che rappresentano la sua posizione di modello positivo. Inoltre non ha paura di indossare nuovamente capi importanti con un recente favorito di Alexander McQueen che ha fatto un'altra apparizione alla recente apertura di via Dandì.